E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre io, Lota Jurassic 4.9.10 E oggi siamo nuovamente qui su The Last Door, stagione 2, episodio 2 Siamo qua con l'inizio dell'episodio 2, dove l'altra volta ci siamo lasciati dove... Adesso lo vediamo perché c'è il bellissimo recapitalamento di The Last Door Quindi, negli episodi precedenti di The Last Door Wickfield e Kaufman seguirono l'unico indizio che avevano riguardo dove potesse essere David Il destinatario di la lettera disturbante di Anthony, Alexandre Dupré Wickfield fece visita al manicomio di Hester per raccogliere qualche informazione sul passato di Dupré Wickfield scoprì che Dupré era stato a capo di una società segreta chiamata Il Drammaturgo Venne a conoscenza dei rituali che praticavano per riuscire a vedere cosa si torcelasse oltre il velo Quella linea che separa il mondo comune da un abisso pieno di orrori Una dei pazienti di Estil si rilevò a essere un membro del Drammaturgo ma riuscì a fuggire dal manicomio Wickfield e Kaufman la seguirono sino al suo nascondiglio Una baita tra le montagne, quando tutto a un tratto apparve uno stormo d'uccelle Ok, ecco questo è quello che è successo praticamente Non devo dimenticare nulla Oh, chi è questo tizio? No, c'è una corda che non mi piace qui Tutto deve essere pronto Vediamo cosa posso cliccare Ah, posso cliccare qua Quando arriverà il momento Ok Devo mettermi a tirare la corda Ah, sta fatta E verranno a trovarmi di nuovo Ok, ha fatto crollare l'ingresso di una miniera E ha fatto crollare l'ingresso di una miniera E quindi inizia così The Last Door Stagione 2, capitolo 2 Quindi ascoltiamoci la sigla insieme E Non lo so, intanto parliamo un attimino di cosa è appena successo Non ho idea di chi fosse il tizio Quindi Yeah E Boh Ha fatto crollare una caverna Dicendo che non devono dimenticarsi Non deve dimenticare queste cose che ha appena fatto Quindi secondo me Dentro quella miniera ci sarà qualcosa che noi dovremmo andare a trovare Sicuro come loro Però lui l'ha fatta crollare Quindi dovremmo fare un giro assurdo per entrare nella miniera Sicuramente sarà così E Ma prima di questo Dobbiamo scoprire chi sia quel tizio Quindi The Last Door Benvenuti Ok Vediamo come inizia Cioè in realtà è già iniziato il capitolo Semplicemente vediamo come continua Ok Saremo ancora Wickfield O David Per un attimo il cielo fu buio Sentimo il richiamo di mille uccelli Ma un altro suono era più forte di quelli Un suono che non riesco a descrivere No siamo ancora con Wickfield Allora Ok Cosa? Ah siamo proprio dove ci eravamo lasciati l'altra volta Proprio nello stesso posto siamo Qua c'era Miss Con Che adesso è esplosa in questa macchia di Nera Cosa è successo qui? Dov'è Miss Con? Siamo arrivati Troppo tardi Ok Vediamo le finestre Prima Le finestre sono coperte di assi di legno Sembra che stesse cercando di impedire a qualcuno di entrare O ha qualcosa di uscire Esatto è quello che stavo per dire io O ha qualcosa di uscire Ok La porta è lì Vabbè Cioè possiamo solo cliccare qua Quindi facciamo qua Sono Ceneri Ceneri C'è un cerchio Gesso Un cerchio disegnato in fretta e furia sul pavimento Pensava che potesse prevenire ciò che stava per succedere Ma si sbagliava Non so cosa pensare di tutto ciò Io si Beh Va bene Lui si perché lui è già più avanti Ok Siamo su Un treno a quanto pare E vedo tutto buio Ok Perfetto State bene Kaufman? Non è niente amico mio Solo un po' di raffreddore Ora amico mio Credo che dovremmo parlare Alla luce degli eventi Dei quali siamo stati testimoni La questione Non può più essere rimandata Dovete prendere una decisione importante Non è ancora troppo tardi Per tornare alle vostre vitri tutti i giorni Se non volete continuare Dovete dimenticarvi Di tutto ciò che riguarda il vostro paziente Jeremy e David Dovete tenere per voi Tutto ciò che avete appreso Sul mistero della sua scomparsa E non dovete parlarne mai più Ma se volete continuare questa ricerca Dovete accettare le conseguenze Qualunque possano essere Per favore Non prendete questa decisione leggera Il sentiero che ci aspetta Non è privo di pericoli Sapete già la mia risposta Devo sapere cosa è successo a David Così sia allora Come avrete già capito La questione che riguarda il vostro paziente Trascende i limiti della psichiatria Che noi conosciamo Non stiamo avendo a che fare Con le conseguenze di un trauma O con demoni Dell'inconscio Almeno non nei termini In cui siamo abituati Abbiamo a che fare con qualcosa di antico Qualcosa di oscuro Una verità sinistra Che è stata sepolta In profondità per generazioni Quest'uomo Alexandre Ipre E la sua organizzazione Credevo volessero scoprire questo segreto E temo Che potrebbero esserci riusciti Alla fine Mi sconne Qualunque sia stata Deve essere stata collegata A tutto ciò in qualche modo Ma la mia conoscenza in questo campo Non è sufficiente Dobbiamo far visita a un vecchio amico Qualcuno Che non avrei mai pensato Di voler rivedere L'uomo che mi ha introdotto Al campo scientifico dell'occulto Il mio mentor Il professor Adam Wright Ok Professor Adam Wright Quindi stiamo andando a questo professore Il professore di Stagione 2 Episodio 2 Il mio più caro ospite Ok Perfettino Ok Anche questa volta abbiamo la nostra mappa Villa Wright Anche questa volta abbiamo la mappa Mi fa molto piacere Perché Apprezzo questa cosa Che possiamo andare in più posti Rispetto alla prima stagione Ok Sta nevicando Figo Dubito che sia fuori casa A quest'ora Forse dal davanti Non riesce a sentirsi Proviamo con la porta sul retro Certo Certo come no Ah c'è qualcuno che sta scavando Miss Oakwood È la custodia della tenuta Sì Chi è? Buongiorno Miss Oakwood Non vi ricordate di me? Oh Dottor Kaufman Dio sia lodato È passato così tanto tempo Che quasi non vi riconoscevo È bello rivedervi Permettetemi Di presentarvi il mio collega Il dottor John Wickfield Il professore in casa Vorremmo vederlo Oh Certo dottor Naturalmente Me ne stavo scordando Lasciate che vi porti da lui È un bene che siete venuti Riceve così poche visite In questi giorni A causa della sua condizione La sua condizione? Oh mi spiace Pensavo lo sapeste Il professore Lui soffre di una malattia della mente È completamente confinato nel suo letto Siamo sicuri che è una malattia della mente? Oh Oh ma questo qua aspetta È quello dell'inizio Abbiamo già capito che è Professor Wright È quello che ha fatto crollare la miniera Per qualche motivo Professor Wright Avete visite Uno di loro è il vostro vecchio amico Guardate Guardate Lo riconoscete? È John Professore Il vostro vecchio studente Scommetto che si ricorda di voi John È molto tempo che non lo vedo così emozionato Vi lascio da soli col professore Potrebbe risultarvi difficile Tenerlo concentrato su un unico argomento a lungo Ma Oh Li farà bene poter parlare di nuovo Con dei vecchi amici Dovresti aver bisogno del mio aiuto Sarò nel cortile sul retro Ok Professore Zio James Siete tornato? Sono io professore John Kaufman Dov'è mio padre? Dov'è stato portato? Soffre di una specie di Perdita di memoria Sì Temo che non potrà dirci Granché in queste condizioni Se potessimo stimolare i suoi ricordi Forse potrebbe raccontarci della sua ricerca Qualcosa che sveli il mistero del drammaturgo Forse In ogni caso Abbiamo poche alternative Proviamo Perché non esplorate la villa? Potrebbero esserci degli oggetti Che potremmo usare per stimolare la memoria del professore Nel frattempo Cercherò di parlargli Dei tempi in cui facevamo ricerche insieme Potrebbe anche aiutarlo a ricordare Ok Lo sguardo del professor Wright Rimane incollato alla finestra Come se stesse aspettando qualcuno La neve cade Lenta e silenziosa Professor Wright Padre Perché dovete trascorrere così tanto tempo lontano? Padre Dobbiamo trovare un modo per aiutare il professore a recuperare i suoi ricordi Perché non provate a cercare qualche oggetto che il professore potrebbe aver tenuto come ricordo? Ok Nel frattempo continuerò a parlare degli anni in cui abbiamo fatto ricerche insieme Ok Vediamo se possiamo cliccare su qualche cosina Qua dentro Un grosso armadio di legno intagliato Non posso aprirlo però Ok usciamo allora Andiamo vediamo Esploriamo un pochettino la villa Ok entriamo in questa porta Ok entriamo in questa porta Già che è qua vicino È chiusa È chiusa C'è un cartello sulla porta C'è scritto soffitta Ok Quindi questa qua è la soffitta Un'incisione su carta Il testo è una lingua che non conosco Ok Un dipinto dell'oceano Al termine del pomeriggio C'è una figura in nero sulla spiaggia Ma il suo volto è coperto da un cappuccio Un dipinto ad olio Raffigura un'oscura scena medievale Ok Questa porta si apre Un dipinto raffigura una vecchia torre di pietra Dei rampicanti spinosi Sono saliti sulla porta Creando una barricata brulicante Che sembra quasi Prendere vita Se viene fissata Troppo lungo Ok Questa porta si apre Questa porta è chiusa Non si apre Ok Quindi entriamo nell'unica porta che si è aperta E poi scendiamo al piano di sotto Ok È un bagno Fantastico Uno specchio Anche se mi vedo allo specchio Il riflesso è stranamente distorto Ok Una vasca di bagno Una grande vasca di porcellana Il cui notevole peso è sostenuto da quattro piedi in ferro Anneriti Un sottilanello di residui umidi Che percorre tutto il suo interno Fa pensare a un suo uso recente Un comune termosifone Mi fa molto piacere Qua è chiuso Ok questa zona qua per ora è inutile Secondo me allo specchio c'entra qualcosa Ve lo dico già Perché dice che riflette è strano Quindi in futuro secondo me ci serve Con lo specchio lì Però Magari no Magari è totalmente inutile Questo è lui Quindi vediamo la sua foto Un ritratto del professor Wright All'epoca il suo aspetto era molto diverso Una figura imponente E inquisitoria Un enorme dipinto Che ritrae un torrente E le onde che si infrancono sugli argini Sullo sfondo Si intravede una vecchia chiesa Apparentemente abbandonata Ok Qua c'è un vasetto di fiori Un vaso di porcellana Che contiene dei rami secchi Ok Una lampada Un vecchio lampadario Ok Apriamo la porta Ok Questa qua mi sa che è l'entrata Vediamo Esatto Ok questa qua è la porta di entrata Dopo usciamo Intanto apriamo tutte le porte Che possiamo aprire Giusto perché così almeno Sappiamo dove possiamo andare Dove non Qua possiamo E qua possiamo Ok allora Andiamo fuori prima Andiamo prima fuori all'esterno Ok Non so se possiamo cliccare su qualcosa Possiamo anche andare più all'esterno in realtà Qua vediamo cos'è No aspetta ci sono questi leoni qua Un leone feroce Danneggiato dal rigido clima costiero Questo scassato del tutto Un leone feroce Danneggiato da Gli manca la testa Ok Questa cosa qua Sul muro c'è una strana decorazione Credo di riuscire a muoverla Muovila Una torre O questo simbolo qua Utile Proviamo a lasciarlo sulla torre Ok Dopo andiamo anche di là Prima qui Però prima andiamo Indietro troppo Ah no Che qua per uscire Ok Possiamo andare nella mappa Se andiamo sulle scale Ok No allora andiamo Andiamo intanto Io intanto cerco sempre Se posso cliccare qualsiasi cosa Perché sapete che mi piace Cliccare su tutto Qua c'è un arbusto Questa quercia Sembra essere molto antica Probabilmente È più della villa stessa Ok Lo possiamo andare avanti L'acqua della fontana È coperta da uno spesso Stratto di ghiaccio Ok Qua c'è una porta Tra l'altro Che dopo vediamo Posso chiedervi qualcosa A Mr. Oakwood Naturalmente Dottora Come è iniziata La malattia del professore La malattia È nel suo ceppo familiare Mr. Wright Ne soffre Così come suo padre Sua nonna Prima di lui È veramente una cosa terribile E pensare che in tutti questi anni Mr. Wright sapeva Cosa che sarebbe successo Che Dio Abbia pietato La sua povera anima La malattia Del ceppo genetico Della famiglia del professor Wright Ne conoscete i sintomi? Beh Non so usare i paroloni Che usano i medici Ma posso dirvi Cosa vedo in lui Il professor Wright Fatica a ricordare Qualsiasi cosa Avvenuta negli ultimi 40 anni È come se fosse tornato bambino Se Dio vuole È tornato indietro così tanto Da fare in modo Che la sua condizione Non lo tormenti più Ok Va bene Andiamo un attimo di qua Quindi per adesso Anche lei è inutile Ma ovviamente Scoprendo più cose Potremmo parlare di più con lei Classico Oh qua ci sono delle cose Questa statua A statua ritrava un prete Che nasconde Il proprio volto Con una maschera La regina Ha rimosso la sua maschera Al posto del volto C'è un buco Per quale motivo Ok A statua al centro Ritrae una figura Coperta da una tunia Che resi in mano Un vaso di argilla Il vaso Ha un piccolo foro Granda sufficienza Per vedere Un oggetto di metallo Nascosto al suo interno Posso prenderlo magari Ah no Non posso prenderlo Ok questo Questa statua Ritrae un saggio Che nasconde Il proprio volto Dietro a una maschera Questa statua Ritrae una contadina Che nasconde Il proprio volto Con una maschera Allora vediamo Qua c'è scritto Quando i quattro Toglieranno Le proprie maschere Di menzogne Verrà aperto Il sentiero Che conduce Alla tomba Ok Secondo me Vi dico già Io Secondo me Questo qua È un enigma Queste tre statue qua Sono Hanno Il volto coperto Dalle maschere Mentre La regina C'ha la maschera In mano Quindi Secondo me Andiamo a capire Come levagli Le maschere Un albero rigido Sembra che anche lui Una statua Andiamo a scoprire Come togliere la maschera La statua qua in mezzo Secondo me Farà qualcosa Tipo il pezzetto Di metallo Che abbiamo visto Secondo me Ce lo fa cadere E scopriamo cose Quindi Per adesso Direi che quella zona lì Mi sembra inutile Quindi Torniamo in avanti Ritorniamo dentro E Vediamo Cosa ci nasconde Questa porta Ok Quindi Secondo me Scopriamo ovviamente Più avanti Cosa ci si fa là Perché In questo gioco Non c'è nulla Che non sia utile Qualsiasi cosa C'è tipo No questa luce qua Non è cliccabile Quindi no Questa porta qua Dovremmo aprirla In futuro E vedere cosa c'è dentro Ovviamente Guardiamo il quadro Un paesaggio marittimo Ok Oh Qua c'era qualcosa Indietro Indietro Ok Qua Sottolineiamo da Un tubo dorato Parte Dalla stanza Alla fine del corridoio E continua verso Le stanze superiori Ok Che arriva a questa caldaia Una stufa a legno In ferro battuto Un tubo dorato Parte dal pavimento E arriva nel corridoio Ok Qua c'è qualcosa Vediamo Qua fuori c'è la La cameriera Vase di vetro Piene di spezie Cibi sott'aceto Posso prendere qualcosa No Vari ingredienti Posso prendere niente qua Un forno per cucinare il pane Ok Questa zona qua Mi sembra per ora Alquanto di Ultrante per questa caldaia qua Che però al momento Non sappiamo come Utilizzare Qua verifichiamo se effettivamente C'è la tizia Si c'è la tizia Ok E quindi Prendiamo questa porta Vediamo se questa porta si apre Cosa si nasconde E' chiusa La porta è chiusa a chiave Su un piccolo cartello C'è scritto Cantina Ok Prendiamo entrare allora Nell'altra porta Che è questa qua indietro Quella grossa Vediamo Se c'è qualcosa Perché per ora Non ho nessun oggetto E non avere oggetti Vuol dire Non poter continuare il gioco Quindi Ok Qua secondo me C'è qualcosa Qua dai Ok vediamo Gli scaffali Qua ci dicono Il professor Wright Ha una collezione Piuttosto varia Da vecchi libri di avventura A tratti Sulle scienze occulte Credo che alcuni Di questi titoli Siano stati dichiarati Illegali Dalla corona Ok Un soldato di piombo Sembra che sia stato dipinto A mano È stato realizzato Per commemorare Un qualche compagnia militare Della quale Non ho mai sentito parlare Possiamo anche Prenderlo Ah Che abbia un significato Particolare Per il professor Wright Forse potrebbe stimolare I suoi ricordi Ok Abbiamo un oggetto Vediamo il quadro Un dipinto Delle scogliere Di questa regione Un fuoco Che brucia intensamente Rendendo L'aria nella sala Pesante E densa Ok C'è una poltrona Un mappamondo La sua superficie È straordinariamente Dettagliata Dalla strana forma Dei continenti Di un che sia stato Realizzato Sulla base Di un'opera di fantasia O di un'epoca Preistorica No Cosa sono queste cose Cliccabili No Ci sono dei bottoni Cliccabili Non mi piace Più di tanto I bottoni Cliccabili Non mi piacciono Perché vuol dire Che dobbiamo scoprire Una combinazione C'è un suono strano Qua dentro Però è chiuso Sento il frustrano Di molti uccelli Dall'altro lato Non mi piace Allora Non è un problema Torniamo Proviamo a tornare Da Da Dottor Wright E portiamo La statuina Vediamo cosa succede Intanto Poi Adesso Adesso ha esplorato tutto E non è successo nulla Non ho né chiavi Né nulla Quindi Sono un attimino Bloccatino Per adesso Però vabbè Magari È giusto Così Prima La statuina Riconoscete questo Professor Wright Il sergente Dowling Fu mandato al fronte L'uomo che tornò Non era più Il sergente Dowling E il mio più caro Ospite Saprà dove cercare Oh Come ci divertiremo Il mio più caro Ospite Ha nominato Il vostro caro Ospite Cosa intendete Professore Avrà visto la mappa E saprà Del libro dei viaggi Il libro dei viaggi Sì sì Lo scoprirà Ma non deve essere Troppo facile No Ma Troverà il premio Ne sono sicuro Premio? Di cosa sta parlando Kaufman? Qualcosa di nascosto Qualcosa di prezioso Potrebbe Nel suo stato confusionale Aver nascosto Parte della sua ricerca È sempre stato Un uomo orgoglioso Non avrebbe mai Dimenticato Il suo lavoro Più rivoluzionario Dovrebbe essere Rimasta in lui Almeno la sensazione Della sua profonda Importanza Forse nel suo Stato confusionale L'ha nascosta Da qualche parte Affinché il suo Più caro ospite La trovasse Perché non Esplorate la villa? Forse Qualcosa Si collega A queste ultime Farneticazioni Nel frattempo Continuerò Nella mia imprese Di recuperare ricordi Tramite la conversazione Ok Allora torniamo Un attimo Nella zona Là in fondo Dove c'era Il fuocherello acceso Allora Riguardiamo un attimo La libreria Che c'è là dentro E dobbiamo trovare Un libro Ha detto Cerchiamo se c'è un libro Il libro Dei viaggi C'è un grosso volume Piuttosto rovinato È un'edizione Illustrata Dei viaggi Di Marco Polo Che sia il libro Dei viaggi Di cui parlava Il professor Wright C'è un segno Su una pagina Abbiamo iniziato Il nostro vaggio Attraversando Il deserto impietoso Sempre rivolti Verso il sole Che tramonta Finalmente Giungemmo A vedere Il grande oceano Percorremmo La costa Verso Nord Con la speranza Di giungere Presto a casa Ma non fu così Più a est E attraccammo E attraccammo lì Con le spalle Rivolte al mare Marciamo Marciamo Finché non fumo A casa Mi sembra brutta Questa roba Allora Il nostro viaggio Attraverso il deserto Ok Quindi Qua Il deserto Sempre rivolti Verso il sole Che tramonta A vedere Il grande oceano Ok Quindi Sono arrivati Qua Percorremmo La costa Verso Nord Ok Quindi La costa Verso Nord Poi Il re della terra Aveva chi Deccato il grande Con Così fu Comunque Sette A tornare Da dove Eravamo venuti Ok Quindi Qua Qua Ok Dove eravamo venuti Nel momento più Piedente Trammo una barca Fu breve Nostra vele gonfiate Dei venti Il capo Più a est E attraccammo Lì Con le spalle Rivolte al mare Il capo Più a est Quindi Mare Il capo Più a est Scusami A est Dobbè essere Di quante Oddio Oddio Questa roba qua Non mi piace Attraccammo Lì Il capo Più a est Con le spalle Rivolte al mare Marciamo Finchè non Fumo A casa Questo qua Quello che mi sembra Più Fuori O no Proviamo a cliccare qua Ok Credo di aver attivato Un meccanismo Nascosto Si è aperto Un piccolo Scompartimento Nel mappomondo Ragazzuoli Mi sento Molto intelligente In questo momento Pensavo di aver Sbagliato tutto E invece Ce l'ho fatta Ho compreso subito Cosa stava succedendo C'è una lettera Chiusa dentro Prendila È semplicemente Indirizzata Al mio più caro ospite Kaufman Deve vederla Prima che venga aperta Uno scompartimento Vuoto I lati e la base Sono coperti Da velluto nero Ok Bella questa musichetta Mi piace Questa musichetta Ok Andiamo da Kaufman E diamogli la lettera E vediamo Cosa ci dice Poi direi Che possiamo Concludere Con l'episodio Però intanto Andiamo Lettera chiusa Kaufman Kaufman Guardate Ho trovato una busta Era nascosta In un mappomondo Aperto grazie a uno strano meccanismo Al mio più caro ospite Vediamo cosa c'è all'interno Esattamente È una parte Di un indovinello complesso Ma a quale scopo? Per nascondere qualcosa Forse? Oppure sono le Le ultime azioni Di una mente Confusa E sempre più debilitata Sono sempre più del parere Che tutto ciò Sia una costruzione mentale Un enigma Evocato dalla mente In declino del professore Potrebbe non aver Nemmeno capito Ciò che ha fatto Se vuoi conoscere Ciò che io conosco Dovrei prima Riconoscere la tua stoltezza Rifletti su te stesso E nel calore Dalla passione Per rilevare Una conoscenza Che il freddo occhio Della logica Non vede No Un indovinello E chi sarebbe Questo ospite Non ne ho idea Amico mio C'è solo un modo Per rispondere A quella domanda Se riusciamo A trovare la risposta All'indovinello Del professore Forse Risolveremo Questo mistero Oddio Ma questo Indovinello Qua è devastante Se vuoi conoscere Ciò che io conosco Dovrai prima Conoscere La tua stoltezza Rifletti Su te stesso Nel calore Della passione Per rilevare Una conoscenza Che il freddo occhio Della logica Non vede Rifletti Te stesso Allora proviamo Vediamo Andiamo allo specchio Rifletti Te stesso Vediamo Rifletti Su te stesso Ha detto L'indovinello E che il freddo occhio Della logica Non vede Che ci sia qualcosa Qui nascosto In qualche modo Un tubo dorato Parta dal pavimento E scompare nel soffitto Allora Forse ho capito Forse Allora Rifletti Te stesso Nel calore Della passione Ok Quindi Dobbiamo Dobbiamo Riuscire a attivare Il calore Della Della Stufa Che c'è sotto Così poi Il tubo Abbiamo visto che parte Va fuori E viene su dritto Se non sbaglio Andiamo a verificare Però dovrebbe essere così Esatto Va su dritto Qua sopra Dovrebbe esserci Un tubo dorato Nelle stanze Superiori E secondo me Dobbiamo riuscire A accendere Il fuoco Lì Così si scalda Così abbiamo Il nostro calore Che riflette Poi ci specchiamo E secondo me Vediamo qualcosa Dentro lo specchio Potrebbe essere La tizia si è spostata Vedete La tizia si è spostata Però non volevo uscire Ho svelto a cliccare Secondo me Andiamo a accendere qua Il fuocarello Ma Lo vedremo Nel prossimo episodio Quindi Da Jurassic 4 C'è un 10 È tutto Vi ricordo di mettere un bel Mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete ancora fatto E noi ci vediamo Direttamente Al prossimo episodio Di The Last Door Stagione 2 Episodio 2 In cui continueremo Con il mistero Del professor Wright Quindi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti